Ciao ciao a tutti! E finalmente ragazzi, in questo video farò il mio primo TikTok e non vedo proprio l'ora! Ragazzi, sono veramente emozionata, il mio primo TikTok e vabbè ragazzi, comunque finalmente mi sono scaricata TikTok perché veramente in tantissimi di voi me l'avete chiesto di fare questo Musical.ly e non vedo proprio l'ora e niente ragazzi, visto che me l'avete chiesto in tanti, l'ho scaricato, però in realtà all'inizio avevo un po' di difficoltà di pensare di scaricarmi in Musical.ly perché avevo delle canzoni che particolarmente, personalmente, non è che mi piacciono molto perché è un genere di musica un poco diverso, cioè, quindi vabbè, però poi ho trovato anche qualche canzone abbastanza carina che mi piace molto, veramente sì, e niente ragazzi, quindi finalmente mi sono scaricata TikTok e adesso finalmente cominciamo con il mio primo Musical.ly Ah, e vi starete chiedendo perché ho questo, questo lecca, questo lecca, ce l'ho perché devo fare la hip hop e quindi devo usare una caramella, una lecca-lecca per fare la hip hop e vabbè, adesso vedete Ok, adesso finalmente incominciamo Buono Con il primo Musical.ly allora Ok Ok Adesso cambio Cambio di nuovo E cambio E cambio un'altra volta ancora E vabbè, ancora un'altra volta Di nuovo Ancora Vabbè ragazzi, un'altra volta Mi sono dimenticata Mi sono dimenticata corti Ah, più sotto Ah no, questo, questo, ok Allora Ok, adesso è una parte un poco poco più difficile, devo mettere tutto insieme Se ci riesco Se ci riesco Se ci riesco Non ho accorto, ce la posso fare, lo so Ok Ok, va bene adesso Un po' di scritte, ok 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 ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' come è venuto E ragazzi Mi chiamo così Sempre Sofia non Sofia E niente ragazzi Se volete iscrivetevi anche al mio canale E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Alla prossima Ciao 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 Ciao